Federico Cerone, io non so se hai controllato se la traversa della porta sotto la curva dell'Avezzano sta ancora tremando dopo quel sinistro nella partita insieme a finale contro il Pineto. No, 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 rimosso, rimosso. La giornata non la ricordo. Per me il campionato è finito col Madelica, i play-off non me li ricordo. Ci sono stati? No, 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 non li ricordo. È meglio mettere una pietra sopra perché in tanti anni di carriera una partita del genere veramente non l'ho mai giocata. Mi ricordo anche in campo gli avversari chiedevano come è possibile, come è possibile. Quindi veramente è meglio metterci una pietra sopra e andare avanti. Anche perché insomma quel rigore sbagliato qualche minuto prima proprio da te era un cattivo presagio. Ma sì, sicuramente se avessimo giocato ancora altre 4, 5, 6 ore la palla non sarebbe entrata. Quindi sì, su rigore magari qualche allarmismo c'è stato, però vedendo l'evolversi della partita potevamo stare lì veramente un altro giorno, non segnavamo. Si riparte però adesso con un blocco confermato e con il solito Avezzano che soprattutto davanti ha tantissime alternative. Ma io sicuramente sono d'accordo con le parole del Presidente che bisogna migliorare quello fatto l'anno scorso. Sicuramente non sarà facile perché abbiamo fatto qualcosa di veramente importante. Partiamo sicuramente avvantaggiati con un gruppo che va a meraviglia, un allenatore bravo. Ci sarà da migliorare quello che abbiamo fatto l'altro anno. Però siamo abbastanza fiduciosi e non vediamo l'ora di iniziare a lavorare. E come dicevi te abbiamo molte soluzioni in avanti. Io sono dell'idea che i campionati si vincono con la qualità. Quindi se è arrivato un ragazzo forte, benvenga, lo accoglieremo a braccia aperte. Anche perché il vostro allenatore in carriera ha avuto il 10 sulle spalle esattamente come spesso lo hai te. E immagino che a te dia parecchi consigli. Sì, non ti nascondo che c'è un rapporto importante con il mister. C'è anche una confidenza sana, ecco la parola giusta. Qualche spunto cerco di rubarglielo. Come tutti sapete è stato un giocatore veramente forte che forse ha fatto al di sotto di quello che poteva fare. Ti ripeto, noi non vediamo l'ora di essere allenati e di partire per il ritiro del 26. Il presidente Paris ha detto che se l'anno scorso è stato il campionato delle Marchigiane, in cui si sono giocate la vittoria delle Marchigiane, il prossimo sarà il campionato delle Abruzzesi. Anche per Federico Cerrone sarà così. Ma sicuramente si stanno muovendo bene tutte le altre squadre abruzzesi. Però è ancora abbastanza presto per delineare le rose effettive. Quindi credo che la parola esatta si potrà spendere dal mercato chiuso.